Ben trovati all'appuntamento con i consigli di cinema. La novità del giorno è la scomparsa dagli scaffali virtuali del film Disney più atteso del momento. Complice la difficile situazione globale causata dalla pandemia e il lancio della piattaforma Disney Plus scompare dalla lista delle uscite in Blu-ray e DVD Frozen 2 di Chris Buck e Jennifer Lee con il seguito delle avventure di Elsa e di sua sorella Anna. Per vederlo bisognerà abbonarsi alla piattaforma digitale. Alcuni titoli verosimilmente disponibili in alternativa. Ho ottenuto un'intervista con Roland Polla. Oh no dai, ma è incredibile. È qui al campus? È a Manhattan. Un giorno di pioggia a New York di Woody Allen con Timothy Ciamalli, Elle Fanning, Selena Gomez, Jude Law, Diego Luna, Liv Schreiber. Sono giovani, innamorati, pensosi. Lui, affamati di vita. Lei, Gatsby e Ashley arrivano a New York per un fine settimana che dovrebbe essere una luna di miele, benché la ragazza abbia in agenda un'intervista con un regista di successo che si rivelerà fragile e in crisi. Tutto scivolerà tra le loro dita come sabbia finché il pomeriggio piovoso spingerà Gatsby a rivedere ogni parte della sua storia, la famiglia e del futuro il suo amore adolescenziale. Woody Allen è nella forma migliore. Non c'è polemica sulla sua storia personale che possa offuscare la bellezza del suo cinema e la sensibilità con cui dà voce tramite un giovane anche a se stesso. Questa è la vita reale. La vita reale è per chi non sa fare di meglio. Doveva essere solo una pidocchiosa intervista di un'ora, invece abbiamo perso tutto il weekend. Ho in mano una grossa storia. Toglitili impermeabile. Non posso, sotto non ho niente. Il palazzo di via Chiaia, i tre negozi di via Chiatamone e il garage di Cappella Vecchia sono stati confiscati. Oh! Il cazzo non la ridi, è la tragedia! Sono guaiata, non è anche un euro. Dove fai tanto l'industriale piccadese e poi non c'è neanche i soldi per piangere. Che ne sarà di me? 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 Che te la piglia render... Sono solo fantasmi. Di e con Cristian De Sica e con Carlo Bucci Rosso, Gianmarco Tognazzi, Ippolita Baldini, Leo Gullotta, Francesco Bruni, Valentina Martone, Gianni Parisi. Tre fratelli sgangherati e rissosi, il mago fallito Thomas, il timoroso Carlo e lo svagato Ugo, si incontrano per l'apertura del testamento paterno. Oppressi dai debiti anziché felici redditieri, i tre si inventano a chiappa fantasmi per dar sfogo alle credenze dei napolitani. Ma, dall'oscurità e fantasmi appaiono davvero, benefici come loro padre e malefici come la strega che vuole la caduta della città. Sarà una battaglia tragicomica senza quartiere. Arlan ha cominciato con una macchina da scrivere arrugginita ed è diventato uno degli scrittori di gialli più venduti di tutti i tempi. Oltre 80 milioni di copie vendute. Siete appassionati? Ma in verità non leggo molti romanzi, devo dire che... Molto appassionati? Sono un suo grande fan. Ma chi è quello là? Il signor Blanc è un investigatore privato di grande fan. È una persona famosa. Cena con delitto di Rian Johnson con Daniel Craig, Chris Evans, Ana de Armas, Jamie Lee Curtis, Tony Collette, Don Johnson, Michael Shannon, Christopher Plummer. Le indagini di Poirot, in perfetto stile Agatha Christie, si spostano in America, dove l'ineffabile investigatore Benoit Blanche, Daniel Craig, deve scoprire chi ha ucciso l'ottuagenario romanziere Arlan. Tutti i presenti, in casa sua, convocati per una grande cena familiare, sono sospetti e potenziali assassini. L'infermiera del morto scoperca che ha vizi privati e pubblici interessi di tutti e provoca un irresistibile showdown. C'è soltanto una persona colpevole dietro tutto questo. Oh mio Dio. Ha memorizzato ogni posizione di quella lavagna, Leighton. Vada a casa. Credo che passerò la notte qui, signore, se saltasse fuori qualcosa. Sua moglie non protesta? Sa come funziona. Anche mia moglie lo sa, ma protesta molto. Quando la guerra sarà finita, passerò tutta la vita a farmi perdonare. Midway di Roland Emmerich con Woody Harrelson, Luke Evans, Dennis Quaid, Patrick Wilson, Mandy Moore, Aaron Eckhart. La vera storia della battaglia navale più cruenta e vittoriosa della Seconda Guerra Mondiale nel Pacifico. La prospettiva è quella dell'ammiraglio Nimitz, dei suoi comandanti, piloti e marinai. Un colossal d'altri tempi, dal piglio scopertamente retorico, accuratissimo nei dettagli storici e di puro divertimento tecnico. Ricorderete questo momento per tutta la vita. Sono l'unica ragazza della mia specie. Ho la peste. No, non hai la peste. Ma anche se le persone non si ammalano più, non significa che il mondo sia migliore. Non ne ho mai viste altre come me. Light of my life di Econ Casey Affleck con Anna Pnioski, Tom Bauer, Elizabeth Moss, DJ Jackson. Un film di preoccupante attualità in cui una misteriosa malattia mette in ginocchio l'umanità e un padre si batte disperatamente per la figlia undicenne. Per trovare una via di fuga, i due si rifugiano nelle foreste del Midwest, braccati da bande selvagge che cercano soprattutto le donne esterminate dalla malattia per impadronirsi delle superstiti. Ma la battaglia è solo all'inizio. Io mi libero, torno su e vengo a cercarti perché sono tuo padre.